Benvenuti a MeteoGiuliaci.it. Oggi giovedì 2 febbraio, freddo glaciale al centro nord, nevicate sulle regioni del medio adriatico, del basso adriatico e regioni centrali, piogge sul medio di Chirreno, isole e al sud, il tutto a causa di un vortice di bassa pressione sulle regioni centrali. Ma vediamo questa mappa che fa vedere come ormai l'aria gelida siberiana occupi quasi tutta l'Europa. Che tempo allora farà nella giornata odierna? Vedete le nevicate sul basso Piemonte, ma soprattutto le nevicate anche in pianura e lungo le coste, sulle Marche, sull'Umbria, sull'Abruzzo, sul Molise, sulle zone interne del Lazio. Nevicate fino a quote molto basse anche sui rilievi campani della Puglia, della Lucania, dell'Alta Calabria e dell'interno della Sardegna. Per quanto riguarda le temperature massime, queste vedete resteranno su valore al di sotto di 0 gradi su molte città del centro nord. Bene termino qui, vi ringrazio per l'ascolto. Ancora un buongiorno.